Buonasera, ben trovati. Ringrazio Susanna Di Pietra che ancora oggi è con noi e il professor Gianni Rezza, il direttore del Dipartimento Malattie e Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Partiamo con i dati relativi al bilancio di oggi. Ad oggi il totale delle persone positive, attualmente positive, è di 103.616 con un incremento di 1.363 pazienti in più rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere, iniziata circa una settimana fa. Ad oggi i pazienti in terapia intensiva sono 3.260, 83 in meno rispetto a ieri. Mentre i ricoverati con sintomi sono 28.023 con un incremento di 176 rispetto a ieri. La maggior parte delle persone positive sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi e sono pari a 72.333, il 70% del totale. Purtroppo oggi abbiamo un numero di deceduti di 566 persone. Il totale dei guariti invece sale a 35.425 con un incremento di 1.224 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, quello che voglio ricordare è il numero dei nostri volontari. Oggi sono 18.477 che si sommano e si aggiungono ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al personale delle Regioni e al personale sanitario. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento, anche durante questo periodo pasquale non si è fermata la raccolta e la destinazione di fondi alle attività del Dipartimento e del Commissario. Abbiamo raccolto 117.123.000 euro. Queste risorse andranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di ventilatori. Ne abbiamo già speso quasi 25 milioni per l'acquisto di ventilatori e di PI. Per l'esattezza 9.420.000 euro per ventilatori, 15.220.000 euro per mascherine e poi c'è una quota che è relativa alle spese di trasporto per 269.000 euro. Poi vorrei dare una rettifica rispetto alla notizia che è apparsa poco fa sul sito di Repubblica Torino. È stata data la notizia del tutto infondato. Ci tengo a chiarire che come la procedura che noi abbiamo dotato sin dall'inizio per la task force dei nostri medici e infermieri, anche sabato scorso, tutti i componenti della team degli infermieri che sono stati poi assegnati alle regioni e portati nelle varie regioni erano stati sottoposti al test per il coronavirus e quindi sono stati trasferiti nelle regioni tutti coloro i quali avevano superato il test avendo un test negativo. Quindi nessuno mai è partito alla volta di Torina in attesa del risultato del tampone o con un risultato incerto. Posso confermare che durante i nostri controlli preliminari, come è accaduto in altre occasioni, ci sono state due persone. Una è a risultato positivo, l'altra con un risultato non proprio positivo e queste persone non sono partite. Quindi relativamente ai infermieri che sono partiti per la regione Piemonte, la regione Piemonte in via precauzionale ha deciso di tenerli in stand by e quindi non sono stati impiegati nelle loro attività. Per quanto riguarda la quarantena, io voglio ricordare che il personale sanitario che è chiamato a prestare la propria opera viene impiegato sotto una particolare misura di sorveglianza sanitaria. Quindi anche questo personale viene sottoposto a sorveglianza sanitaria e continua a lavorare fin quando non dovesse avere eventuali sintomi. Questo è quello che ci tenevo a precisare rispetto a questa notizia che era stata diffusa e divulgata qualche minuto fa. Mi fermo qui, do la parola al professor Rezza. Prego, professore. Io volevo un attimo cercare di un'interpretazione dei dati, perché tante volte si dice come mai a distanza di un mese dal lockdown voi dite che le cose vanno meglio e dopo invece sembra che i casi siano sempre tanti e che soprattutto, purtroppo, i decessi siano ancora una quota elevata. Il punto è questo, che a parte che subito dopo il lockdown continua un po' di trasmissione, chiaro, intradomiciliare, ad esempio intrafamiliare, può esserci, non so, nei condomini, per esempio un po' di residua a trasmissione del virus. Quindi questo fa sì che la coda si allunghi, no? Quindi abbiamo, dopo il lockdown, un periodo in cui il tempo di incubazione, quindi per alcuni giorni continuano i casi, la coda dei casi che è stata acquisita prima, quindi un po' di trasmissione intrafamiliare può esserci. Dopodiché, però, noi dobbiamo tenere conto di un fatto, che il tempo che trascorre fra il momento del contagio e il momento della notifica, cioè oggi, posso trascorrere anche 20 giorni. Allora, che succede? Che quelli che, tante volte io vedo sulla stampa, oggi 3.000 nuovi contagi, non sono nuovi contagi, sono nuovi casi. Persone che hanno acquisito l'infezione 20 giorni fa. Quindi, quello che noi vediamo, effettivamente, è qualcosa che è accaduto prima in termini di contagi. In termini di mortalità, ancora di più, perché chiaramente la mortalità può essere anche molto ritardata. Una persona, purtroppo, sta in terapia intensiva un certo numero di giorni. Quindi voi dovete tenere conto, momento del contagio, momento della comparsa dei sintomi, momento della diagnosi, ospedalizzazione e esito favorevole. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, favorevole in altri. Quindi, anche se purtroppo dobbiamo registrare che la mortalità è stata piuttosto elevata, però quello che si vede oggi è qualcosa che, in termini di contagio, però, è attribuibile a giorni fa. Ecco, questo dobbiamo tenerlo in mente, se no, non riusciamo a capire. Come mai dite che va meglio quando, purtroppo, il numero di morti è ancora elevato, quando i casi stanno un po' diminuendo, di fatto, ogni giorno, perché oggi sono 3.100 rispetto ai giorni scorsi che erano una cifra più elevata, però stanno diminuendo, no? A poco a poco. Ma diminuiscono lentamente perché si riferiscono a contagi. Quindi, non diciamo nuovi contagi, sono nuovi casi, eh? Il cui contagio è venuto tempo fa. Spero di essere stato chiaro su questo, perché altrimenti ci sono delle interpretazioni, magari, dei dati che possono... Il che vuol dire che, quindi, quello che vedevamo dai modelli matematici, dalle curve che ci dicono, le curve epidemiche fatte per data di insorgenza dei sintomi, tutti quei segnali positivi, la minore pressione sull'ospedalizzazione, sugli ospedali, sulle terapie intensive, questi sono indicatori un po' più precoci, no? Che ci dicono, le cose stanno andando meglio. Allora, questo che vuol dire? L'altra volta ho detto, non mi chiede una libera a tutti. Questo che vuol dire? Questo siamo ancora in fase 1, eh? Non c'è dubbio. Sono segnali positivi che però devono essere consolidati in attesa di. Quindi, segnali positivi ci sono. Il numero ancora elevato di casi e di morti attribuibili al contagio avvenuti tempo fa, naturalmente, dobbiamo vedere come si consolideranno questi dati. se si consoliderà una discesa nel numero di nuovi casi, come ci auguriamo, ed anche dei decessi, così speriamo, no? Quindi, spero di essere stato chiaro sull'interpretazione dei dati che altrimenti a volte possono gettare, no? Possono restare qualche perplessità, ma vanno interpretati, naturalmente, con molta cautela. Bene, grazie. Diamo un spazio alle vostre domande. Buonasera, Daniele Petraroli, TG2. Io avrei un paio di domande per il professor Rezza. La prima è se esistono studi sui danni agli altri organi oltre ai polmoni, sui guariti, o se è ancora presto. La seconda riguarda il calcio. Basket, pallavolo e rugby hanno deciso di chiudere anticipatamente la stagione. Lega di Serie F del calcio insistono nel voler continuare. Ovviamente, poi, la decisione finale spetterà alla politica e alla politica del pallone. Quello che vorrei sapere da lei, però, è se, secondo il comitato tecnico-scientifico, è pensabile di dare il via libera a uno sport di contatto che riguarda 30-40 atleti più la terna arbitrale, ma anche centinaia di addetti per far funzionare le partite, o invece, se no, sarebbe meglio rimandare tutto a settembre quando la situazione sarà più tranquilla. Grazie. Sì, sulla prima domanda, certamente questo è un virus nuovo e quindi gli effetti che ha sull'ospite non sono ancora del tutto noti. Però, non per ora, nonostante il follow-up sia limitato, diciamo, il monitoraggio clinico dei pazienti non si assiste a residuati, cioè nel senso a deficit di organo che possono persistere una volta che la persona è guarita. Una volta che la persona è guarita non sembra avere particolari residui. Abbiamo visto, perché sappiamo tutti, noi abbiamo letto, di recidive che non sono reinfezioni ma probabilmente sono recidive. Cioè una persona che magari momentaneamente sembra essere guarita, magari un tampone negativo dopo può essere di nuovo positiva, però queste recidive vanno approfondite e non è detto che la persona che recidiva sia dopo contagiosa. Su questo si sta facendo uno sforzo chiaramente scientifico per capire di più. ci sono dei lavori che parlano di una compromissione o di possibili effetti a livello del sistema nervoso centrale però sinceramente ancora questi dati non sono consolidati. Quello che si sa è che ci sono dei sintomi che erano stati in un primo momento magari negletti erano come l'anosmia per esempio cioè il fatto di non sentire gli odori che però non sembrano persistere nel tempo sono un segno diciamo abbastanza precoce probabilmente un danno a livello dell'epitelio per esempio olfattivo può esserci che è un'assenza di gusto per talvolta che è dovuto a un danno dell'epitelio probabilmente degli organi del gusto ecco al di là di questo chiaramente nei casi più gravi si capisce perché nei casi più gravi se c'è una tempesta citoginica c'è una reazione dell'ospite sfavorevole allora in quel caso ci può essere una compromissione di altri organi ma stiamo parlando dei casi gravi per quanto riguarda la domanda sul campionato questa io da romanista vorrei dire tutto a monte perché chiaramente non mi sembra che il CTS si sia ancora espresso in maniera definitiva dopo è chiaro come lei ricordava tocca alla politica decidere però certo è uno sport che implica dei contatti e questi contatti possono implicare un certo rischio di trasmissione ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio più stretto magari con test ripetuti ogni n giorni ai calciatori sinceramente mi sembra un po' tirata questa ipotesi credo che del resto stiamo quasi a maggio credo che dal punto di vista se dovessi dare un parere tecnico non darei in questo momento un parere favorevole sinceramente dopodiché sta la politica naturalmente a decidere io le do in questo momento un parere mio personale che penso però penso che possa essere condiviso al CTS Buonasera Lorenzo Di Cicco del Messaggero una domanda al professor Rezza sui vaccini nelle ultime ore sembrano aumentate molto le aspettative una società di Pomezia in collaborazione con l'università di Oxford ha annunciato che da fine aprile partirà una sperimentazione su 550 volontari ecco volevo capire se si tratta insomma di speranze fondate se serve ancora cautela insomma i tempi quali possono essere grazie allora sì perché sui vaccini c'è un'accelerazione in quanto abbiamo sempre detto un anno probabilmente il prossimo anno il primo rimesso del prossimo anno chiaramente che succede che in corso di epidemia le agenzie regolatorie in genere sono più generose perché è chiaro che si soppesano i possibili rischi di una vaccinazione ai vantaggi che invece la vaccinazione avrebbe e quindi in genere si accelerano molto i tempi ci sono l'altro giorno Credo Science o Nature Credo Science ha riportato in un articolo mostrava i primi 5 vaccini che sono in sperimentazione umana di fase 1 quindi quella sulla safety sulla sicurezza tra i quali un vaccino a mRNA dell'NIH in collaborazione con una company privata e altri vaccini in sperimentazione anche anche in Cina questa per quanto riguarda la Pomezia diciamo si tratta di Advent di RBM in collaborazione con il Jenner Institute quindi l'Istituto Jenner di Oxford Oxford University è un vaccino vettoriale cioè ha un vettore che è un adenovirus che non replica nell'uomo perché è un adenovirus di scimmia che esprime la proteina di superficie lo spike del coronavirus che è prodotto invece da Oxford ma qui adenovirus Pomezia Oxford lo spike allora è un vaccino che utilizza una piattaforma già utilizzata per il vaccino contro ebola lo stesso adenovirus che esprime però una proteina di superficie di ebola in questo caso del coronavirus quindi la piattaforma è la stessa per cui il vantaggio sarebbe di non avere un vaccino particolarmente innovativo un vaccino per carità sempre innovativo come concezione che però già è stato utilizzato e per esempio il vaccino anche in commercio che è diverso sfrutta un altro vettore animale per quanto riguarda ebola è un vaccino che usa una piattaforma simile quindi il vantaggio sarebbe quello di poter accelerare ulteriormente i tempi magari comprimendo le fasi fase 1 e fase 2 o addirittura fase 1 barra 2 barra 3 due bis ho visto diciamo che le prospettive sono abbastanza ottimistiche naturalmente questo non riguarda solo questo vaccino ma riguarda tutti i vaccini è quanto siano in grado di evocare le giuste risposte immunitarie e che queste risposte siano protratte nel tempo questo è quello che noi chiaramente ci auguriamo quindi sì questo è un candidato promettente la problematica riguarda tutti i vaccini attualmente in sperimentazione buonasera Filomena Rorro chi l'ha visto Rai 3 una domanda sui tamponi che continuano a farci i nostri telespettatori cioè poiché ci dicono sono stati fatti tamponi a politici calciatori anche colleghi giornalisti e non al medico al dottor Valli che prima di morire a Roma qualche giorno fa ha denunciato ha scritto su un post testualmente i tamponi li hanno fatti a tutti a Zingaretti a Sileri a Porro e a Menocchio la febbre 38 e mezzo allora ci chiedono perché succede questo c'è forse una corsia preferenziale provo a rispondere io che ci siano state le difficoltà nel fare i tamponi l'abbiamo visto in una fase iniziale anche sul numero dei tamponi avete visto che adesso il numero dei tamponi è elevatissimo siamo sopra i 50 mila mediamente al giorno sono stati fatti secondo quelle che sono le regole dell'organizzazione mondiale della sanità io non credo che ci siano delle corsie preferenziali quindi ci saranno stati dei casi bisogna vedere caso per caso il perché non sono stati fatti i tamponi in certe occasioni però mi sento di escludere delle categorie di privilegiati nel fare i tamponi io credo che i tamponi vengono fatti quando ce n'è bisogno e chi appunto lo richiede nel caso specifico non conosco bene la questione quindi non posso darle una risposta a proposito dei tamponi c'è stato un problema non con i tamponi pure propriamente ma anche quei test quei reattivi che reagenti che mancavano e in qualche modo si sta cercando di far fronte come diceva giustamente ricordare il dottor Borrelli il numero di tamponi ha aumentato molto avevo dimenticato nella mia introduzione effetti noi stiamo riscontrando una certa diminuzione nel numero di casi o quantomeno stabilizzazione a livelli più bassi nonostante si stiano effettivamente facendo più tamponi uno dei problemi era Milano per esempio Milano si riportavano delle catene di trasmissione però ultimamente hanno molto aumentato i tamponi forse è venuta meno la pressione è diminuta un po' la pressione che avevano le strutture sanitarie riescono a fare più tamponi probabilmente anche a domicilio il problema c'è stato è inutile negarlo chiaramente però mi sembra che le cose stiano andando meglio naturalmente io lo ripeto ripeterò fino alla noia stiamo in fase 1 bisogna stare ancora attenti cauti rispettare le raccomandazioni delle autorità sanitarie in preparazione di un'eventuale fase 2 quando verrà bisognerà essere molto pronti anche e soprattutto su questi aspetti perché i casi veramente andranno individuati con molta tempestività perché quella sarà la nostra risorsa che avremo per contenere i focolai e anche per trattare bene diciamo i malati che non dovessero essere ricoverati in ospedale Cardinaletti TG1 da domanda per il professor Rezza torniamo sui decessi oggi superiamo i 20.000 dall'inizio dell'emergenza tra l'altro una nota dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che questo coronavirus è 10 volte più letale rispetto al virus dell'influenza del 2009 professore intanto un commento su questo poi lei ha detto abbiamo dei dati di miglioramento che vanno consolidati quando pensate di cominciare a vedere un consolidamento anche del trend in calo dei decessi visto che resta ancora molto alto grazie sì io non ho mai avuto dubbi che non si trattasse di un'influenza tantomeno di un'influenza stagionale se il paragone con l'influenza si poteva fare era con l'influenza pandemica ma l'ultima influenza pandemica che ricordiamo era abbastanza non è stata particolarmente virulenta perché non il virus H1N1 del 2009 risparmiava abbastanza le persone più anziane che erano state esposte a virus simili in passato quindi è chiaro che la letalità di questo virus confrontata con quello dell'influenza stagionale è maggiore non c'è dubbio anche perché ma è abbastanza banale io ricordo persone che dicevano colleghi diciamo che si poteva trattare di un raffreddore di una simile influenzale una sindrome simile influenzale ma no perché questo è un virus che comunque attacca il polmone quindi la polmonite in una certa percentuale di casi la dà per cui che abbia una letalità più elevata dopo oltretutto finché non avremo un vaccino non potremo proteggere le persone più fragili quindi diciamo era scontato quando potremo vedere gli effetti delle misure di contenimento anche sui decessi credo che sia l'ultimo indicatore a diminuire perché come le dicevo prima il tempo che intercorre fra il contagio e il decesso chiaramente è più lungo rispetto al tempo che intercorre fra il contagio e la diagnosi fra il contagio e la notifica quindi questo purtroppo sarà l'ultimo degli indicatori che noi vedremo deflettere e questo spiega perché abbiamo un trend che è in leggera diminuzione anche dei decessi fortunatamente perché eravamo arrivati a mille vero Angelo? Eravamo arrivati addirittura a mille cioè 500 non siamo contenti perché voglio dire assolutamente sarebbe una cosa ancora triste e drammatica assolutamente però certamente rispetto ai mille di giorni fa c'è stata una diminuzione naturalmente io ripeto sarà l'ultimo prima vedremo diminuire magari i casi e dopo ancora i decessi quindi sarà l'ultimo indicatore allora io le dico abbiamo stiamo cercando di modellizzarlo però dal dal contagio alla notifica diciamo stiamo probabilmente sui 20 giorni quindi dal contagio alla morte potrebbe essere un tempo anche più lungo dei 20 giorni adesso si sta contraendo perché l'aumentato numero di tamponi ci fa pensare che si arriva prima alla diagnosi quindi questo tempo dovrebbe contrarsi però noi possiamo dire che almeno 20 giorni era una buona una buona stima e quindi questo è il motivo per cui vediamo una flessione ma chiaramente è più lenta rispetto alla flessione che c'è stata nell'accesso all'ospedale e alle terapie intensive e questo ci dice perché bisogna consolidare il trend quindi bisogna resistere buonasera Domenico Palestre dell'ANSA un paio di domande ieri sera Locatelli ha proposto ha auspicato la ripresa delle scuole direttamente a settembre se su questo siete d'accordo e poi magari al dottor Borrelli una domanda sulla task force perché oggi si parlava di una graduale ripresa probabilmente anche forse la prossima settimana di alcune filiere tipo la moda le auto qualcosa su cui state lavorando oppure sono tanto voci grazie sulle scuole siamo in fase 1 non stiamo no perché va bene noi stiamo dicendo ci sono degli indicatori positivi ma cautela però perché il virus circola quindi è chiaro che non posso non essere d'accordo con il professor Locatelli anche perché insomma sinceramente arriviamo già al 3 maggio insomma non mi sembra che sinceramente e dopo io direi una cosa forse spero anche Angelo e il dottor Borrelli siate d'accordo quante cose nuove abbiamo visto durante questo periodo il telelavoro il lavoro agile cioè vuol dire noi in Italia ne parlavamo dai tempi come si dice a Roma di Checchennina altri paesi l'avevano già introdotto noi abbiamo visto che c'è questa capacità anche nel nostro paese probabilmente un po' di inventiva di innovazione questo periodo drammatico ha saputo anche come dire favorirlo aiutarlo per cui è chiaro che nel momento in cui un paese che non può reggere il lockdown per oltre due mesi tre mesi nessun paese no? lockdown completo però riavviare attività produttive nel momento in cui si consolidasse un trend positivo non vuol dire ci spetta la politica per carità ma non vuol dire che tutto torna come prima perché chiaramente alcune cose distanziamento sociale precauzioni sui trasporti e via dicendo saranno inevitabilmente dovranno continuare sui lavori della task force posso dire che sta lavorando e io non mi sento di aggiungere nulla lasciamogli lavorare hanno appena iniziato a lavorare quindi poi sulla base di questo lavoro ci sarà un report e sarà anche lì il decisore politico a dover decidere come fare quindi è assolutamente prematuro qualsiasi ipotesi altre domande prego salve buona pasquetta sono indenia petra calvina direi uno la vita in diretta io ritorno un po' sui positivi quotidiani dottorezza l'ha spiegato poco fa però io vedo che almeno a mio parere i numeri continuano a essere alti di chi ogni giorno viene riconosciuto come positivo è vero che l'infezione risale l'incubazione risale era due settimane fa ma era fine marzo ed eravamo in lockdown la domanda è cosa ci aspettiamo se i numeri continuano a salire così dei nuovi positivi rispetto ai tamponi fatti quando si passerà una fase più di graduale apertura comunque rimane una situazione di grande non dico rischio però comunque la positività è in crescita e allora come leggere questo dato e soprattutto se i dati crescono in questo modo la fase 2 quando torneremo un po' a muoverci più liberamente cosa accadrà lascio rispondere il professore Rezza ma prima quando ci siamo visti abbiamo commentato un grafico col professore Rezza che lui mi ha spiegato che comunque la tendenza è quella in un decremento ma vorrei che fosse lui a dire quello che mi ha detto su quando commentavamo questi dati sì no a parte il fatto che stiamo vedendo quello che è avvenuto in termini di contagio è avvenuto 15-20 giorni fa sì però nella prima fase intanto si continuano a vedere i casi che dato il tempo di incubazione sono stati acquisiti prima del lockdown dopo una certa trasmissione intrafamiliare persiste in genere noi facciamo un isolamento domiciliare che non è non si fa come i cinesi che deportano i familiari in strutture apposite quindi insomma c'è una tendenza alla trasmissione intrafamiliare abbiamo avuto il fenomeno dell'RSA focolai ospedalieri nell'RSA quindi sono tutti i focolai che determinano comunque sia un certo numero di casi nuovi di contagi nuovi dopodiché i nuovi i nuovi casi dovrebbero tendere dovrebbero tendere a scendere quindi dopo un periodo di almeno 20 giorni rispetto agli ultimi contagi gli ultimi contagi non arriveremo a contagi zero ve lo dico subito allora se vedete la curva a cui faceva riferimento il dottor Borrelli prima ebbene anche in termini di casi riportati comunque abbiamo avuto una sorta di io non la voglio chiamare picco perché noi abbiamo avuto un picco naturale un altro mito da sfatare noi abbiamo avuto un aumento dei casi dopodiché questi casi sono hanno raggiunto un massimo perché grazie all'intervento se non ci fosse stato l'intervento la curva avrebbe continuato a crescere noi non stiamo vedendo un incremento stiamo vedendo un leggero decremento con stabilizzazione nei casi che riportano quotidianamente che non è un incremento se voi fate una curva accumulativa dice incremento di incremento no i casi i nuovi casi sono di meno rispetto a quelli riportati una settimana fa dopodiché abbiamo un andamento ondulante perché essendo riportati ogni giorno c'è una certa oscillazione che è dovuta al fatto che un giorno fanno più tamponi un giorno si fanno più notifiche e questo porta a una normale oscillazione se però tiraste una linea dritta voi vedreste una certa tendenza alla diminuzione è chiaro che prende tempo non è un fenomeno così io oggi chiudo domani che bello tutti a spasso non è così e non lo sarà cioè quei modelli che vi fanno vedere che i casi scendono a metà maggio arriviamo a zero non arriveremo a zero cioè il virus non stopperà la sua circolazione purtroppo no perché forse a Wuhan ci sono riusciti prendendo le misure incredibili e comunque hanno un fenomeno un po' di ritorno no perché comunque sia il virus continua a circolare nei dintorni in altri paesi e tende a rientrare noi quindi avremo la tendenza alla diminuzione che si consoliderà tutti i nostri modelli ce lo dicono però il virus continuerà in qualche misura a circolare quindi dovremo mettere toppe in continuazione allora perché dobbiamo essere molto preparati per questa benedetta fase 2 quando arriverà perché perché dando per assunto che il virus continuerà a circolare anche se a un livello più basso intensità più bassa ogni volta che si creeranno dei cluster dei grappoli dei casi dovremo essere prontissimi a identificarli e a bloccarli contenerli apposta diciamo dobbiamo rafforzare il territorio la vigilanza del territorio che siano app vanno benissimo però ci vogliono gli uomini gli uomini vedete pure in Corea ci sono le app sfruttano la tecnologia è magnifico però ci hanno anche gli uomini che vanno lì fanno i tamponi seguono rintracciano i contatti dei casi bisognerà fare un lavoro molto forte da parte le AS le dipartimenti di prevenzione i medici tutto quello che è medicina del territorio dovrà essere rafforzato quindi non solo le terapie intensive che sono state rafforzate questo me lo conferma sicuramente Angelo ma anche sul territorio bisognerà rafforzare il territorio perché bisognerà essere molto molto pronti ad agire per identificare e contenere eventuali focolai nuovi bene allora grazie così buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti